Alla tua tardi, laurearsi non è semplice, ma tu hai vivi come complice in questa storia magica. Manna che fai, anche se non ti lavi ti ama già. Oh Vittorio non è Dio. Lei non lo sa, con tanto amor ti ospiterà. Adesso dottore davvero, ma è ripartito da zero. Non inizierà poca ragione, c'è tutta la tua confusione. Paura di fare un errore, terrore, terrore, terrore. Aver tanti dubbi da puersi, impianti da volte rimarzi. Privato, con gli sbalzi d'umore, civile e le solite storie. Appelli, ogni due settimane. Mangiare, studiare, soffrire, e a volte nemmeno dormire. Mamma e papà, non danno pace neanche un attimo. A te che esci sempre l'ultimo, puntando all'università. La faloltà è un guazzamuglio inesplicabile, con un gazzone imprevedibile, senza un pianello di pietà. Adesso sembrate due amici, tu e Lipari insieme felici. Inizierà occhi di ghiaccio, ma si riduceva a uno straccio. Poi hai fatto duemila progetti, provando a parlarne con tutti. E alla fine la tua aspirazione, è la moto e l'illuminazione. Lipari è un relatore formidabile, è quello giusto per guidare me, verso la laura magistrale. E adesso che allegria, la tesi è tutta mia, e dopo questa laura dove andiamo si vedrà. Contrati a volontà, norme di validità, con correttezza e in buona fede sempre. Erodo te, un elemento imprescindibile, per la tua tesi memorabile, che punta all'eternità. O la tua età, laurearsi non è semplice, ma tu hai fatto l'impossibile. E tu la 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 la, e tu la 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 la, e tu la 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 la, e tu la 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 la. Grazie.